Le vicende dell'attacco di Hamas a sud di Israele e le tappe successive, l'ingresso delle truppe israeliane per sradicare Hamas da Gaza, hanno suscitato evidentemente reazioni varie e oserei dire anche procurato una sorta di rivelazione, se mai rivelazione possa essere, cioè che al di là del merito terribile, tragico, naturalmente parlo anche dal mio punto di vista come obiettivo di coscienza, laddove si delineano elementi che hanno come riferimento la guerra, la morte, bambini ammazzati, è un orrore che va a contrastare e a rendere sempre più acuto la sofferenza proprio partendo da un valore morale. Ma la riflessione che viene voglia di fare e che faccio con l'amico professor Francesco Sici, oggi in questo momento della conversazione è a Pechino, riguarda un aspetto che in qualche misura suscita onestamente e necessariamente una riflessione aggiuntiva. Abbiamo constatato come lo spirito antiebraico è tutt'altro che scomparso, parlo dell'Italia, potrebbe essere allargata la Francia, abbiamo constatato migliaia e migliaia di atti antiebraici, anche la sistemazione della stella di David, terrificante, abbastanza drammatico, simbolo di quello che è stato tutta la vicenda dell'orocausto, l'aggressione agli ebrei, la caccia agli ebrei. Ma nello specifico italiano la cosa che ci ha immediatamente suscitato un motivo di profonda perplessità è proprio l'appello che 4 mila universitari, comprensivi anche di non soltanto di professori universitari, anche di assistenti e di ricercatori, diciamolo francamente all'interno dei 100 mila addetti al mondo accademico italiano, hanno dato vita ad un appello nel quale hanno sostanzialmente chiesto di interrompere ogni iniziativa con le università israeliane come segno di indignazione, però firmando un appello che suscita quantomeno delle perplessità, cioè si avverte il sapore acre, terribile, terrificante dell'antiebraismo che non sembra essere scomparso non soltanto nella tradizionale acquisizione della destra che oggi al governo sembra invece molto proiettata in una dimensione altra, ma anche della nostra sinistra e in realtà se lo vai a leggere dentro ai contenuti specifici si intravede come i firmatari di questa petizione dicono appunto che parlano della tragedia del 7 del program del 7 ottobre nel sud di Israele, parlano appunto di brutali azioni e si limitano a questo, mentre invece parlano di genocidio per quanto riguarda Gaza, il che chiaramente fa trasparire una preoccupazione e una perplessità che in qualche misura noi siamo attraversati come Italia, abbiamo citato la Francia, forse anche come Europa da un sentimento di caccia agli ebrei, cioè di antiebraismo, è una proiezione eccessiva? Oppure a tuo avviso resta un background terrificantemente, preoccupantemente antiebraico? Non dico antisemita perché sappiamo tutti che chiamiamolo antisionista perché appunto anche la religione musulmana ha anch'essa una visione che non può essere sottratta ad un riferimento storico per cui non può essere soltanto antisemitismo nei confronti dell'ebraismo. Ma qui il concetto che mi interessa sottolineare è questo, avverti anche tu che c'è un profondo sentimento antiebraico e quindi anche il richiamo di fronte all'atto del 7 ottobre, anche alla preoccupazione e al dramma che viviamo, tra l'altro parentesi, ogni giorno, diciamo che dagli ultimi due settimane i corrispondenti non parlano più di morte, ne basterebbe uno, basterebbe un bambino per procurargli il nostro sentimento di dolore, ma i dati che vengono forniti sui morti a Gaza sono dati che arrivano direttamente dall'autorità di Hamas e nessuno dice dati forniti da Hamas. Questo fa capire che anche in questo senso è come se fossimo attraversati da una preoccupazione, ma in realtà non vogliamo indagare sulla nostra vera natura, perché è evidente che parlare di 11 mila morti, di cui 6 mila bambini, diciamo siamo di fronte a dei dati che sono decisamente gravi, ripeto ne basterebbe uno per procurare la nostra preoccupazione. Allora domando, qual è la vera interpretazione che si può dare? Siamo ancora attanagliati da un sentimento antiebraico per ragioni storiche? Ecco, passo la palla a te per dare una interpretazione a questa affermazione che può essere forse troppo drastica. Così diciamo prima faccia e certamente c'è questo antiebraismo, l'antiebraismo ha accompagnato la nostra cultura per secoli e non è che ce ne sbarazziamo semplicemente con un colpo di spugna dopo la seconda guerra mondiale o chissà perché. E questo è un elemento culturale e forte, anche perché la cristianità, così come l'Islam, ha un rapporto complicato con l'ebraismo. Da una parte ha nell'ebraismo la sua radice, dall'altra parte ci si domanda perché poi gli ebrei rimangono ebrei e non si convertono al cristianesimo o all'Islam e quindi da una parte c'è bisogno proprio in quanto cristiani o in quanto musulmani della permanenza della cultura ebraica. Però è come se si volesse metterla in una specie di vaso e controllarne la crescita. Quindi questa contraddizione è insita proprio nel nostro rapporto culturale con l'eredità giudaica. Io penso però che qui in questo momento particolare ci sono altri fenomeni interessanti in gioco. Cioè da una parte questo anti-ebraismo è uno specchio di una nuova protesta moderna. Cioè quelli che oggi si agitano per la causa palestinese in realtà danno voce a loro sentimenti di insoddisfazione verso la società attuale e quindi sono quelli che un tempo erano comunisti o dell'estrema destra e che oggi invece si votano alla causa palestinese per dire non ci piace più questa vostra cultura e questo vostro mondo occidentale. Cioè quindi Israele è la lente verso cui si esprime questa voce antigovernativa. E in questo io direi meglio che si esprima in questo modo che in altri modi è una dimostrazione direi ulteriore della libertà, della democrazia e del funzionamento efficace delle cose da noi. Un altro elemento ancora io temo che sia il problema della integrazione. Questo lo vediamo in paesi dove la comunità, le comunità musulmane sono più numerose e anche più organizzate, con una storia più lunga, che ne so, in Francia o in Gran Bretagna. Lì io penso che ci sia un altro problema ancora, cioè il fatto che larghe minoranze si riconoscono in questa cultura, in questa identità musulmana da contrapporre alla cultura dominante dei paesi ospitanti. E qui c'è un altro problema ancora, cioè il fatto che io credo noi non vediamo che il problema dell'immigrazione è gestito forse in maniera squilibrata. C'è tanta attenzione al controllo e a fermare gli ingressi e poco invece controllo sulla integrazione. Perché benissimo che vengano, benissimo che contribuiscano al lavoro, ma devono anche accettare i costumi e le leggi dei paesi occidentali. Non possono quindi pensare o sperare di imporre costumi e leggi dei paesi musulmani nei paesi occidentali. Anzi, deve essere il contrario. Questi signori dovrebbero diventare messaggeri di liberalità nei loro paesi di origine. E qui c'è un secondo me una grande pecca nella nostra integrazione culturale, perché una volta che arrivano qua sono abbandonati a se stessi e invece no. Devono capire profondamente e culturalmente cosa significa essere, in questo caso, nostri italiani. Devono essere italianizzati. Anche questo governo non fa eccezione. Tanta propaganda su fermare gli immigrati, ma poi i due milioni di immigrati che sono qui sono integrati, sono italianizzati e condividono con l'Italia i valori, i valori ideali e le leggi italiane. Se questo non accade è un problema che non può essere rinviato a babbo morto. Per esempio la questione di Gaza nasce anche dal fatto che per decenni in qualche modo Israele ha pensato che la questione palestinese fosse irrisolvibile e quindi l'ha lasciata stare. Però alla fine è esplosa. Così anche noi io penso abbiamo un problema di immigrazione musulmana che non può essere risolta semplicemente ignorandola, ma queste persone devono essere integrate, devono essere pienamente integrate e qui il governo allo Stato deve fare uno sforzo oggi prima che sia troppo tardi. E l'ultima cosa, l'elenco è lunghissimo, in qualche modo queste forze si oppongono al futuro che arriverà tra uno o due mesi alla fine della guerra. Cioè noi ci troveremo davanti alla fine della guerra con Israele che non sarà più debole di prima, ma sarà più forte di prima e più integrato di prima in Medio Oriente. E quindi sarà una forza, potrebbe essere meglio, una forza di cambiamento solida di tutto il quadro politico ed economico del Medio Oriente. Infatti vediamo che gli appelli alla guerra di Hamas sono rimasti inascoltati. Hamas è sempre isolata perché, come abbiamo già detto, i paesi arabi non vogliono essere rapiti dalla agenda di Hamas, non hanno intenzione di condividere gli obiettivi di Hamas, anzi sono forse più stanchi della questione palestinese di quanti non lo siano gli stessi israeliani e invece pensano e sognano un futuro di maggiore integrazione di Israele nel Medio Oriente e questo naturalmente può diventare un volano, un motore di enormi cambiamenti strutturali. Quindi c'è un'opposizione direi complessa e, come spesso accade, la questione anti-ebraica è un velo che nasconde molte cose, non è una semplice espressione di anti-ebraismo. In questo io penso che sia importante da una parte ovviamente opporsi, ma dall'altra parte anche avere con chiarezza il limite della questione. Cioè ci sono delle domande confuse dietro questo anti-ebraismo che devono avere delle risposte concrete, per esempio l'integrazione dei musulmani nei paesi occidentali, l'integrazione vera, autentica, non di facciata. Il fatto che Israele dovrà e sarà un nuovo volano di crescita in Medio Oriente, tutte cose che devono avere una risposta positiva. L'ultimo elemento forse è che dietro tutta questa ondata di propaganda. Io vedo un agitarsi non della forza di Hamas, che non credo abbia la capacità organizzativa di distribuire bandiere palestinesi in giro per il mondo, ma forse russa o iraniana che vedo con piacere la distrazione attuale del mondo dalla guerra in Ucraina. Però temo che anche lì i conti siano un po' fatti senza l'oste, perché la guerra non credo sarà lunghissima e poi invece il mondo tornerà a concentrarsi con maggiore attenzione sulla questione ucraina. Forse la Russia potrà non essere contenta. Hai delineato un quadro del quale mi trovo profondamente d'accordo e vorrei sottolineare come, già credo in una recente conversazione, abbiamo messo in evidenza che paradossalmente il silenzio di molti paesi arabi è anche la prova che gli stessi gruppi dirigenti di questi paesi, per carità poco propensi anche a una dialettica democratica, ha bisogno di corrispondere a una spinta di modernità che non riescono a fissare all'interno anche delle realtà sociali che hanno create e che di fatto incombono sulla loro situazione. Ma dici molto bene quando affermi che comunque questa elite araba non ha nessuna intenzione di finire nella egemonia di Hamas sul mondo arabo. Qui bisognerebbe aprire, ma non lo faremo in questa occasione, una parentesi importante per quanto riguarda proprio il rapporto tra arabi e palestinesi. In fondo gli arabi non hanno mai amato, mi permetto di affermare questo, i palestinesi li hanno sempre ritenuti parassitariamente annidiati nella situazione e la prova è evidente, se qualcuno ogni tanto cita la ricostruzione storica, nell'appello a cui ho fatto riferimento i professori, si fa per dire, del nostro mondo accademico, almeno la parte che ha firmato questa petizione, dicono e parlano di una politica di occupazione illegale dei territori palestinesi accelerata da Israele eccetera. Bisognerebbe ricordare che i territori palestinesi, che l'ONU aveva in qualche misura nel 1947, mi pare, 46-47, assegnato ai palestinesi, mentre gli israeliani si insediano, i territori furono occupati dagli arabi e i palestinesi furono in primo luogo espulsi dagli arabi stessi e quindi in questa chiave, se vogliamo proprio rifarci a una ricostruzione storica, bisognerebbe essere un po' meno ignoranti, se non vogliamo contrastare questi geniacci del nostro mondo accademico che hanno firmato questa petizione, almeno invitarli a dare, a rileggere i passaggi storici non sarebbe male, proprio per dare una capacità di interpretazione un po' meno casuale. Certo la realtà ci spinge anche un punto più in là, perché anche se solo in 4.000 su 100.000, nessuno ricorda i loro appelli o un loro appello, una loro petizione per esempio per i morti ad Aleppo, la guerra civile in Siria, proprio la presenza di quella Russia a cui facevi riferimenti, i massacri, totale indifferenza nei confronti di queste cose. Quindi come dire, possiamo sgamare, e non c'è malevolenza da parte mia, il fatto che poi tutto sommato a loro, i bambini, i morti eccetera, interessano ma in misura molto relativa, il loro problema è essere anti-ebraici, perché altrimenti avrebbero avuto un sussuto come abbiamo cercato di avere noi al tempo in cui quei massacri si realizzavano, nell'ordine di decine di migliaia di bambini che sono stati massacrati, anche quei kurdi che in qualche misura emerge naturalmente un quadro di contraddizioni che naturalmente sono intracciabili anche nella nostra vita. Al correre del Ticino il professor Melvin Gelain, papà della leader del Partito Democratico, essendo vissuto da ebreo anche in un kibbutz, ricordava come la situazione al confine con la striscia non è mai stata semplice. Anche negli anni Sessanta dormivamo con il mitra sotto il letto. Dunque gli israeliani hanno dovuto sempre vivere una vita sotto la costruzione dell'aggressione e questo naturalmente fa capire anche che di fatto si ripercorrono tappe che abbiamo imparato a conoscere. Potrebbe anche emergere un'altra riflessione, come mai Israele non si è difesa e i suoi servizi non hanno adeguatamente letto questi avvenimenti. È un'altra chiave di lettura, ma sicuramente l'oggetto a cui miro in questa conversazione con te è proprio la constatazione di questa ipocrisia di fondo, di questo animo antiebraico che è anche un animo di ignoranza, perché giustamente tu hai messo in evidenza due o tre aspetti che sono fondamentali, cioè che in qualunque caso questa nuova protesta è una protesta esaustiva, fine a se stessa, pseudo-rivoluzionaria, ma assolutamente rivelatrice anche del fatto che, e mi rifaccio in questo caso all'Italia, il nostro paese è privo di lettura pragmatica, empirica, nutrita di valori e si muove su un piano ideologico molto spesso incapace di sostanziare una credibilità o una reale forma di intervento sui processi che si vengono a verificare. Allora qui emerge, per esempio sarà per un complesso di colpa come Schulz, il capo del governo tedesco, abbia dichiarato una cosa che può suscitare contraddizioni evidenti di fronte alle brillanti interpretazioni di Gutierrez, segretario generale dell'ONU, al quale molto spesso vengono caricate molte responsabilità. La verità è che lui, come dire, omen omen, cioè Gutierrez è il segretario generale dell'ONU, cioè di un'organizzazione che di fatto ha perso ogni credibilità nella sua capacità di intervenire ed essere il luogo in cui il mondo si confronta, il che naturalmente non è che ci fa piacere, se pensiamo alla tragedia della società delle nazioni e ai rischi che una delegittimazione, ma la delegittimazione dell'ONU non si esprime soltanto con la nomina a capo della, diciamo, chiamiamola della sezione ONU che riguarda i diritti umani affidati all'Iran, che è un paradosso palese rispetto a quello che sta accadendo in questo paese, è la sua assoluta inefficacia rispetto alle dinamiche che si vengono a scatenare. Schulz parla di un cessato il fuoco che non si può realizzare, altrimenti Hamas si riorganizza, cioè questo rende evidente la problematicità. Naturalmente non riduce di una virgola il dolore, la sofferenza nel vedere i palestinesi di Gaza nelle condizioni in cui si trovano all'interno di questo conflitto e naturalmente però fa capire anche un'altra cosa, su questo concludo, il fatto che il Washington Post, che pure a differenza di New York Times si è mosso con una maggiore attenzione, ha ritirato una vignetta in cui c'era un capo di Hamas che si difendeva con i civili palestinesi e questa è stata ritirata una sorta di razzismo. I lettori, ci dice il responsabile della sezione del Washington Post, sono stati indignati perché hanno ritenuto che fosse razzismo. Qui ti fa capire come l'evoluzione del nostro pensiero, nello specifico italiano e nel contesto anche occidentale, nutrite di culture del politicamente corretto, di culture woke, di dinamiche eccetera, sembra avvilupparsi sempre più in un'esattività incapace di cogliere invece la sostanza delle cose. Tu hai detto quando queste tragedie ci si augura saranno finite, la mappa del mondo dovrà riformularsi sul piano dell'intelligenza delle cose reali, dei fatti reali, però qui questi aspetti incombono sulla nostra dialettica interna e aprono spazi che non possono che suscitare preoccupazioni. Allora rivolgo a te una domanda molto semplice, qual è secondo te il malessere, oltre che quello dettato dalla incapacità di accogliere, l'incapacità appunto di, tu hai definito, italianizzare, evidente che la nostra realtà è pronta ad accogliere, però anche a non essere sopraffatta da culture che hanno come obiettivo l'offesa e il massacro della nostra civiltà democratica. E qui sarebbe interessante capire qual è l'interpretazione che ne dai. Sì, secondo me è proprio questo il punto, cioè la cultura woke funziona, può funzionare solo se è una strada a due direzioni, cioè se dà rispetto e riceve rispetto, ma se pretende rispetto e non ne dà, allora non funziona. E' giusto che gli immigrati dai paesi musulmani vogliano rispetto per la loro origine, però allo stesso tempo devono rispettare e anzi devono adattarsi alla cultura liberale del paese che li accoglie, perché poi senza questo non c'è più paese che li accoglie e allora provino ad andare a rifugiarsi in altri paesi musulmani che certo saranno molto più tolleranti e molto più intolleranti. E quindi il rispetto è fondamentale, è il macchio della cultura liberale, è del pensiero critico, però questo deve corrispondere anche a un'interlocuzione di uguale livello, cioè queste persone devono essere pienamente convinte del valore direi supremo della cultura liberale, della tolleranza e se questo non avviene, certo noi diamo spazio a chi? Diamo spazio ai nazisti perché poi rovescino la democrazia e allora no, questo sarebbe stupido e sciocco. Ecco, io temo che noi siamo un po' su questo crinale e siamo su questo crinale e bisogna muoversi presto in maniera netta, culturale, per, diciamo, occidentalizzare questi immigrati da paesi musulmani, cioè possono chiedere tolleranza per sé, ma devono dare tolleranza per gli altri. Senza dare tolleranza per gli altri, ecco, allora non devono poter parlare, io non voglio arrivare qui, non è una questione di ordine pubblico naturalmente, è una questione culturale, ma è una questione culturale profonda e su cui non può, non si può essere che inflessibili, bisogna essere rigidissimi, la tolleranza chiama tolleranza, richiede tolleranza, senza tolleranza, cade tutto l'edificio liberale e democratico e nelle macerie siamo distrutti tutti, compresi questi musulmani pseudo-intolleranti che si sono rifugiati da noi e non da altre parti. Quindi è una questione di vita o di morte per noi, per la nostra cultura, ma anche per questi stessi che oggi protestano per Hamas, che non possono fare le stesse proteste in paesi non occidentali, quindi il valore dell'Occidente, la tolleranza occidentale deve essere una cosa suprema su cui non si può transigere e questo passa naturalmente anche dai diritti per le donne, non può essere concesso e pensato che le donne di paesi con origini musulmani abbiano meno diritti, meno spazi delle donne che vivono accanto a loro negli stessi paesi occidentali. Questo deve essere, io credo, un discrimine fondamentale, anche perché su questo passa, oltre che la vita stessa, l'essenza stessa dai paesi occidentali, ha anche uno spazio di contaminazione geopolitica pericolosissimo, cioè giusto dare libertà di manifestare ma ingiusto farsi manipolare da russi, da iraniani, da forze esterne che cercano in questo modo indiretto attraverso una guerra ibrida di indebolire i paesi occidentali. Questi sono atti di guerra e a questi atti bisogna rispondere come tali, quindi su questo io credo sia il problema. E gli stessi partiti che dicono di voler difendere l'italianità non vedono che l'italianità si difende molto di più, cercando di integrare, di italianizzare queste persone, di renderle completamente italiane, di farle appartenere e avvicinarsi ancora di più a noi. E non tanto sulla questione dell'immigrazione. Certamente l'immigrazione io non sono per le frontiere aperte, ma l'immigrazione è un problema difficile, complicatissimo, difficilissimo da gestire e che ha bisogno di tempi lunghi. Quello su cui però non c'è tempo è l'integrazione e su cui non è stato fatto quasi alcun lavoro, se no piccoli tentativi da parte della Chiesa Cattolica, ma a livello sociale è quasi zero. E questo io temo sia la questione più delicata a cui tutti i governi occidentali, ma in particolare in questo caso il governo italiano, debba essere chiamato a risolvere. Integrare è fondamentale. Concludiamo dunque, alla luce di queste tue osservazioni che condivido, il concetto che fare un appello, affermando che si è trattato di brutali azioni di fronte a program che abbiamo visto il 7 ottobre, fare appelli dal mondo accademico, c'è da pensare che o siamo di fronte a una solida ignoranza o a una solida malafede. E questo aspetto qui è un altro dei elementi che contrastano con la costruzione di quel rapporto di accettazione di quell'autostrada di ingresso e di ritorno, che giustamente tu hai richiamato quando hai sottolineato come la cultura uoca non può essere a senso unico. Ma la sensazione è che la storia ha conosciuto anche molti aspetti che vengono definiti i caratteri degli utili idioti che noi non vogliamo attribuire a nessuno, ma che emergono in modo piuttosto clamoroso anche nei fatti che abbiamo provato a descrivere qui. Ti ringrazio per la tua disponibilità e a presto risentirci, casomai ancora da Pichino. Buona giornata. Grazie, buona giornata.